Bene amici, sentirete l'aggettivo bella oggi tante volte perché è proprio così e finalmente provo anch'io la 500 completamente elettrica che secondo me è veramente un'icona di stile, una reinterpretazione della 500 bellissima a partire dalle luci diurne a led con questo sopracciglio, qua abbiamo gli indicatori di direzione io ho la versione di mezzo con i fari alogeni, ovviamente c'è anche l'optional dei full led molto ben integrati tutti gli ADAS perché qua abbiamo una guida autonoma di livello 2 ma vi faccio vedere il taglio laterale dove vediamo come sia compatta, sono 3 metri e 63 di lunghezza ma ci sono dei dettagli di stile che mi piacciono tantissimo, per esempio gli indicatori di direzione laterali così che sporgono a led, veramente molto belli, c'è anche la versione 3 più 1, io ho la versione 3 porte 3 più 1 vuol dire avere uno sportello qua che agevola l'accesso ai posti posteriori c'è anche la versione cabrio, ma la 3 quarti posteriore è un'altra reinterpretazione della 500 che è venuta veramente bene, molto belli i fari, i gruppi ottici posteriori vi faccio vedere il baule da 185 litri fino ai 550 di capacità e come dicevo prima, versione di mezzo quindi non abbiamo l'optional dei sedili sdoppiabili si carica con una presa o tipo 2 o combo e la cosa che mi piace è che la carica è veloce 85 kilowatt la potenza che può sfruttare dalla corrente continua mentre 11 in corrente alternata ma per prestazioni, consumi e come sta a bordo adesso vi porto a Torino perché lei è una perfetta cittadina ma può anche viaggiare, scopriamo insieme, andiamo a trovare gli amici di Lisis Go perché non è detto che questa 500 si debba comprare, si può anche usare e roleggiare andiamo ma prima ve la racconto un pochino dentro, le maniglie sono elettriche e anche l'uscita si attraverso questo pulsantino ovviamente c'è la possibilità di sblocco di emergenza ma vi voglio far vedere un pochino le finiture un po' di plastica dura qua sopra ma voglio dire nel complesso ci stanno mi piace anche questo tessuto dei sedili parto subito con lo spazio a bordo dietro ricordatevi è una cittadina 3,63 m di lunghezza ma io che sono 1,60 m sto decisamente comodo qui ho fatto sedere Pietro alto 1,90 m e dietro rimane un po' pochino diciamo una mezza spanna ci sta giusto giusto il mio ginocchio però anche qua dietro comunque non si sta scomodi anche in altezza spazio ce n'è abbastanza ovviamente anche dietro si può ribaltare e portare in avanti il sedile ma quello che mi piace è il lavoro che è stato fatto sul design degli interni male il fatto che il sedile però non torna in posizione cioè non ha la memoria della lunghezza della regolazione proprio in profondità il ginocchio degli interni bellissimi a partire da questo nuovo sistema infotainment con display da 10 pollici poi magari ve lo racconterò durante il viaggio ma è intuitivo, è fatto bene, è anche abbastanza veloce ci si può integrare il proprio account Alexa per comandare la domotica o anche qualche servizio in auto e la home page è personalizzabile cioè io qua posso decidere cosa inserire a livello di widget posso anche andare ad aggiungere delle pagine posso scegliere layout a due oppure a tre widget posso semplicemente facendo più decidere che informazioni mi interessano e che le informazioni voglio avere qua in primo piano semplicemente schiacciando sul più per esempio voglio anche degli shortcut cioè dei ulteriori pulsanti per andare a fare delle cose per esempio andare su android auto o per esempio per andare a ascoltarla digital audio broadcasting che c'è beh lo posso fare in maniera veramente super intuitiva e veloce qua la regolazione dell'infotainment qua abbiamo la regolazione della climatizzazione qua i comandi tipo pianoforte proprio per il clima qua la possibilità della ricarica wireless con anche il cavo c'è android auto c'è carplay e entrambi sono wireless le modalità di guida sono tre ma ve la racconto poi mentre andremo a guidare regolazione del volume qua carica 12 volt per qualsiasi utilizzatore e un'altra presa usb tanti vani vanetti molto comodi anche qua il cassettino devo dire è ben fatto e poi la plancia secondo me è veramente piacevole con questo schermo lcd davanti agli occhi del guidatore che può dare tante informazioni ma adesso vi faccio vedere anche l'applicazione che vi consente di noleggiarle è molto semplice appena si apre c'è la geolocalizzazione vostra dove sono le vetture disponibili cliccando su una vettura vi dice che percentuale di batteria ha e quindi un'autonomia diciamo presunta si può tranquillamente prenotare è bello il fatto che con i filtri si possa anche scegliere l'area di interesse cioè io voglio scegliere macchine solamente in un raggio di 500 metri 1 km 2 km o con un livello minimo di carica poi ci si clicca ovviamente prima bisogna registrarsi e inizia il noleggio ma ripeto questo lo approfondiremo a Torino adesso ci mettiamo in marcia e andiamo perché abbiamo 42 kWh di batteria e l'87% di autonomia residua andiamo e subito di Waze devo dire molto reattivo il sistema infotainment e siccome devo uscire da questo parcheggio proviamo subito la manovrabilità c'è da dire che su questa vettura non c'è l'optional della retrocamera ma è possibile metterla e raggio di sterzata molto bene direi molto molto bene e molto bene anche la silenziosità vi parlavo delle modalità di guida io adesso sono in modalità scerpa quella che limita la velocità massima che sarebbe di 150 km orari a 80 e va a disabilitare anche il climatizzatore per aumentare l'autonomia ma adesso metto in modalità range che è quella modalità che attiva la guida one pedal è settata benissimo a livello di Tesla cosa vuol dire? che se schiaccio accelera tanto e se mollo sentite quanto frena rigenerativamente tanto fino a fermarsi fino a zero poi si riaccelera e si va praticamente si riesce a guidare solamente col piede destro sull'acceleratore mi piace veramente tanto questa taratura l'altra modalità di guida è invece normal cosa succede? così si comporta come una termica cioè io mollo l'acceleratore e praticamente veleggia ho un piccolissimo freno motore e qua ovviamente devo schiacciare sul pedale del freno per dare tutta la potenza rigenerante ma adesso affronto un pezzettino di pavè e vi dico subito che l'assetto è veramente bello io le Elisis Go ormai le utilizzo da qualche mese qua a Milano e a Milano c'è tanto pavè San Pietrini e Rotaie comoda sostanzialmente comoda cioè assorbe veramente molto bene le asperità tra l'altro il display che è messo qua davanti ci dà veramente un sacco di informazioni la pressione degli pneumatici il service la musica quello che sta suonando la navigazione con una bella mappa tridimensionale unica cosa i segnali i pittogrammi se usiamo Android Auto o CarPlay non vengono riprodotti là in mezzo e poi eventuali avvisi e qualche settaggio sul display così come per esempio la luminosità ma la schermata principale è proprio bella ecco c'è da dire una cosa il rumore della freccia fa un po' Fiat 1 però vabbè ma molto bene i consumi guardate 8.5 km ogni kWh in città adesso stiamo uscendo stiamo per prendere l'autostrada ma vuol dire che in ambito urbano riusciamo a fare attorno ai 350 km lei nel ciclo di omologazione ne fa 320 ma ovviamente il ciclo di omologazione comprende anche l'extraurbano e l'autostrada dove adesso consumeremo un po' di più però autonomia in città direi bene ma ovviamente ho lasciato attivo il controllo della corsia guardate cosa succede se mollo le mani dal volante la 500 gira il volante da sola avete visto ovviamente è un po' brusca perché qui non abbiamo l'optional del travel assist ovvero quell'automatismo che ci tiene il centro della corsia e che ci segue anche con il cruise control adattivo la vettura che precede qua abbiamo un cruise control standard con anche volendo il limitatore di velocità ma se tanto mi da tanto c'è già questo ADAS è tarato bene non fa bip strani non rompe le scatole ci dà un avvio sul volante una controcoppia giusta immagino che anche la guida assistita funzioni molto bene ecco l'altra cosa che non mi fa impazzire è che quando si mette l'indicatore di direzione non fa tre lampeggi ma ne fa cinque vabbè ok preso il biglietto c'è anche il portabiglietto e proviamo questa coppia subito e devo dire che si sente e nel silenzio più totale 0109 secondi siamo già a 110 e devo dire che a questa velocità silenziosità bene devo dire ragazzi sonorizzata anche bene a 110 la velocità perfetta per le elettriche dopo circa 50 km si è stabilizzato il consumo medio che è 6.5 appena sceso adesso a 6.4 km ogni kWh il che vuol dire in autostrada a questa velocità fare tra i 260 e i 280 km adesso mi porto a 130 4.9 km kWh arrotondiamo a 5 il che vuol dire 200 210 km a limite autostradale il che ci sta perché questa è una vettura particolarmente efficiente e voi sapete che la durata della batteria su un veicolo elettrico è molto influenzato dalla velocità media che si tiene e più questo parametro è influenzato più vuol dire che la vettura è efficiente perché se buttasse via energia in altre cose beh il diciamo il consumo in base alla velocità sarebbe più mediato dal consumo che invece verrebbe buttato via in questi altri utilizzatori tangenziali Torino non vi ho parlato dell'handling andando ad alta velocità molto molto bene anche le reazioni sul pedale guardate mollo in curva leggerissimo alleggerimento del posteriore ma devo dire che la tenuta è molto buona è vero che l'assetto è sempre tendente al morbido ma non è un morbido che si muove troppo è un morbido che comunque sta lì perché il peso è in basso le batterie sono sotto al pianale bene anche la tenuta di strada ma qualcosa mi dice che siamo arrivati siamo a Mirafiori dove questa 500 la costruiscono abbiamo fatto 150 km consumo medio 6.5 km ogni kilowattora siamo arrivati con il 14% di autonomia residua quindi posso dire che si può viaggiare è arrivato a Torino l'ho messa in carica carica partita subito sta succhiando 11 kilowatt è bello il fatto di avere il led del livello della batteria anche qua sul bocchettone di ricarica ma come funziona l'Isis Go molto semplice è un car sharing dovrete abbonarvi su Amazon costa 19 euro e 90 l'abbonamento tra l'altro col mio link in descrizione è gratuito quindi iscrivetevi abbonatevi e poi si può pagare o una FIMEN SEAL di 19 euro e 90 per avere 120 minuti compresi il che è molto conveniente perché viene a costare 16 centesimi al minuto l'utilizzo oppure se non volete potete tranquillamente pagare all'utilizzo e lì costa 0,29 oppure fare come ho fatto io oggi perché in teoria non è consigliabile con un car sharing prendere la macchina a Milano venire a Torino tornare a Milano ma è comunque fattibile ogni giorno di noleggio costa 43 euro e 50 quindi anche lì la formula è conveniente perché comunque chilometraggio illimitato unico vincolo è che se la prendete mollate prendete mollate nell'ambito dell'area urbana di Milano non dovrete occuparvi della ricarica se avete fatto un viaggio lungo come quello che ho fatto io oggi dovrete occuparvi voi della ricarica e rilasciarla in un'area del comune di Milano vedete questa è una vettura del comune di Milano io non la posso rilasciare qua tramite app adesso io gli ho detto che sono qua in sosta quindi ho messo in pausa l'applicazione e adesso la ricaricherò e poi la potrò rilasciare a Milano ma comunque è fattibile anche fare dei viaggi medio lunghi se ne avete la necessità ovviamente 500 elettrica avrebbe un'ottima applicazione che consentirebbe di monitorare distanza lo stato di carica geolocalizzarle eccetera 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 accendere la climatizzazione ma ovviamente questo essendo in sharing ha la sua applicazione che comunque consente di vedere che la vettura è in sosta e consente anche di accendere i fari da remoto nel caso non la trovaste in un parcheggio dove l'avete lasciata e se non la trovate beh potete sempre schiacciare qua e chiamare aiuto e dopo un paio d'ore tempo di un pranzo devo dire si mangia bene al ristorante il motorvillage abbiamo caricato 21,82 kilowattora se mi fosse fermato a una fast 0,80% ci avremmo messo 35 minuti e mancano i prezzi allora abbiamo due versioni di 500 elettrica la 23,7 kilowattora che parte da 23.800 euro e poi questa che parte da circa 30.000 euro ma con due accessori che vanno messi secondo me la guida assistita completa ma anche la retrocamera si arriva a 33.000 euro che ci stanno ma anche il taglio della batteria direi che ci sta ricordo che è una macchina piccolina cittadina 3 metri e 60 avete visto l'autonomia ci consente tranquillamente di fare dei viaggi medio lunghi e poi la ricarica fasta è comunque veloce ma non sono da solo c'è Silvia e Federico qui con me che sono di FCA Bank e allora con Silvia voglio parlare di Silvia che spettacolo c'è anche un magnifico arcobaleno alle nostre spalle sì perché sta iniziando a piovere il tempo è veramente matto qua a Torino ma voglio parlare di car sharing perché si può guidare quindi non comprare questa 500 elettrica spendendo molto meno sì l'Isis ha lanciato ormai all'inizio del 2021 l'Isis Go il car sharing che hai provato oggi per venire qui da noi l'Isis Go è un modo che permette a tutti di guidare elettrico in modo democratico perché con semplicemente un abbonamento pay per use o prepagato si può accedere a un'auto elettrica senza dover spendere tutto quello che dicevi tu all'inizio del video poi mi sembra molto interessante il fatto che tu la puoi prendere a Milano allora lo sharing come diciamo prima è fatto per usarla in città ma anche volendo fare un giro in un'altra città lo si può fare tranquillamente sì assolutamente con l'Isis Go al momento siamo presenti a Torino Milano e Roma dove l'auto si può usare in sharing entrare all'interno delle ZTL parcheggiare gratuitamente nelle zone blu ma se si vuole se ha bisogno dell'auto per un po' più di tempo si possono prendere le nostre formule giornaliere e in questo modo si può andare in tutta Italia e poi hai fatto un fantastico codice sconto quindi iscrizione gratuita per chi si iscrive con quello quindi provate se volete provare la Fiat 500 è anche un modo per provarla volendo sì e per provarla potete naturalmente accedere o con il codice gratuito e poi sceglierla di pagarla con carta di credito e con la carta di credito di FCO Bank avrete anche dei vantaggi molto interessanti allora chi è Federico perché c'è anche Federico che tra l'altro Federico sei stato fortunatissimo perché hai iniziato pure a piovere e quindi ci becchiamo pure l'acqua ma Federico tu invece ti occupi di carta di credito perché FCO Bank ha anche una carta di credito io mi occupo di quelli che noi chiamiamo i prodotti di daily banking non tutti lo sanno noi siamo forti sulla parte del finanziamento auto fortissimi ma siamo forti anche sui prodotti che ti possono accompagnare ogni giorno una carta di credito un conto deposito prestiti personali tutto controllabile digitalmente abbiamo una app sia su Google Play che su App Store abbiamo un customer portal sul sito FCA Bank punto it e la nostra carta di credito è un prodotto completamente digitale internazionale che ti consente di avere un accesso assolutamente privilegiato privilegiato poi in descrizione probabilmente lasciamo qualcosa di è il mio canale cosa vuoi lasciare nella mia descrizione lasciamo in descrizione dei codici personalizzati per la tua community attraverso le quali daremo delle condizioni vantaggiosissime sulla carta di credito che fondamentalmente rimane gratuita il primo anno è gratuita per sempre dal secondo anno spendendo almeno 1500 euro all'anno ma soprattutto un accesso molto privilegiato ai prodotti Lisis sia sugli abbonamenti sia sul pay per use di Lisis Go ma soprattutto il 15% di sconto su tutto anche lo short term di Lisis ti interrompo un attimo perché io so da figlio di ex genitore che lavorava in FCA che i dipendenti FCA hanno delle condizioni super vantaggiose e super privilegiate vuoi dire che col mio codice sconto che tu mi stai mettendo in descrizione possiamo avere quelle condizioni? io questo non lo posso dire ma posso dire che nella pagina che lasciamo ci saranno spiegate in dettaglio delle condizioni estremamente vantaggiose ti ringrazio e tra l'altro le carte che io ho visto sono anche molto molto carine perché prima me ne hanno date un po' qua da far vedere e anche in base al brand che avete c'è quella di Fiat c'è quella di Fiat Professional c'è quella di Alfa Romeo c'è una delle mie preferite quella di Abarth Silvia sai che è una 500 Abarth però adesso mi sono convertito all'elettrico quella è perfetta e poi anche quella di Lancia c'è anche quella di FCA Generalista vi ringrazio tanto di avermi invitato soprattutto qua a Mirafiori perché la 500 elettrica viene prodotta qua è completamente italiana 100% a me è piaciuta molto nella guida quelle due o tre cosettine che vi ho detto durante il video ma se volete provarla quale migliore occasione di farvi un bel abbonamento all'Isis Go e provarla anche voi poi magari mi dite in descrizione come l'avete trovata anche voi ciao e grazie ciao grazie a te anche smesso di piovere è uscito il sole ciao Andrea giornata perfetta Milano